Zeman sembra aver preso tempo. Prima di dire sì alla Pescara, il tecnico di Praga attende sviluppi in merito alla vicenda societaria. In atto un vero e proprio contenzioso giudiziario tra canonico presidente del Foggia e l'ex proprietaria Maria Assunta Pintus, che rivendica il pagamento del pacchetto azionario ceduto la scorsa estate. L'udienza è stata già celebrata, sentenza in arrivo. Zeman vuole tornare a Pescara ma avrebbe dato la parola. Si sarebbe impegnato, condizionale quanto mai di rigore, a restare a Foggia qualora la proprietà cambiasse. I tempi saranno comunque lunghi. Di qui il pressing del Pescara sul Boemo, che dovrà dare una risposta entro e non oltre la giornata di lunedì. Nel frattempo Colombo aspetta buone nuove. L'ex allenatore del Monopoli è corteggiato dalla Carrarese, che ha offerto al tecnico Lombardo un biennale. C per C la preferenza di Colombo è chiara, Pescara, ma fino a quando sarà disposto ad aspettare? E se invece ci fosse un terzo candidato? L'ipotesi non è affatto peregrina. L'unica cosa certa è la data della decisione. Non si andrà oltre la giornata di martedì prossimo, 14 giugno.